Ciao ragazzi, come state? Buon martedì a tutti quanti voi. Secondo video di giornata molto interessante, altro che formazioni di Juve Lazio. Ce ne freghiamo bellamente e anzi farò la reaction su Twitch, quindi venitemi a seguire di là durante la partita che la commentiamo insieme. Ma non è questo il punto, non è questo il punto principale di questo video. Questo è un video molto importante e vi invito a mettere like al video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, che è molto, molto importante per la crescita del canale. Siamo vicini ai 100.000, quindi forza e coraggio. E commentate, ditemi le vostre opinioni, perché quello che sta accadendo in queste ore è sicuramente roba importante. Non è che sta accadendo in queste ore, in realtà è una cosa che è maturata da tempo, ma abbiamo delle conferme nella giornata odierna. Quindi mi raccomando. Allora, Fabrizio Romano scrive ragazzi, Giovanni Manna è il primo candidato ad essere direttore sportivo del Napoli per la prossima stagione. I contatti, secondo quanto riportato in Italia, sono avvenuti e Manna dovrebbe diventare il nuovo direttore del progetto del Napoli. Aggiungo anche un'altra cosa, questa roba conferme da Sky fino anche a Rome Agresti e tanti altri, per cui è una notizia fondata. Adesso c'è da capire quali sono le tempistiche che porteranno Giovanni Manna a lasciare la Juve. Lascerà la Juve da adesso? Quando? Come? Eccetera. Ma oltre questa notizia c'è dell'altro, però ci arriviamo. La mia riflessione sull'addio di Giovanni Manna alla Juventus è semplice. Stanno cadendo tutti, stanno andando via, stanno cadendo andando via tutti gli alfieri di Massimiliano Allegri. Cioè tutte le figure apicali della società che hanno sostenuto, portato avanti quel tipo di idea, cioè riportare Allegri per il secondo mandato alla Juventus, eccetera. Ecco, tutte quelle figure stanno via via sparendo. Cioè ci rimane solamente Cherubini che ha un contratto che è in scadenza a quest'estate, che probabilmente non verrà rinnovato. Per cui mi pare che sia finita, ok? Se dovessimo un po' vedere dalla Game of Thrones o alla, insomma, più alla politica. Ecco, quel partito là si è disgregato, ok? Nelle scelte, eccetera. Non c'è più nessuno che va a sostenere quella leadership di Allegri. Per cui casca tutto e tutto cambierà. Giuntoli avrà quindi la libertà di poter costituire una società in base a quelli che sono i suoi interessi. In base a quelle che sono le sue... Come si può dire? Avete pensato che quando uno si trova bene con un gruppo di lavoro e lo vuole ricostruire? Ecco, in base a quelle sensazioni là andrà a ricostruire un gruppo importante. Tant'è vero che si parla di un Pompilio che dovrebbe unirsi subito, ha giuntoli già per la prossima stagione. Quotazioni in ribasso anche per Micheli, che sappiamo bene essere il capo scout del Napoli e potrebbe lasciare Napoli per venire alla Juventus. Dove trova un ruolo vacante, quello del capo scout, lasciato proprio da Matteo Tognozzi, che ha deciso di intraprendere una strada differente, la direzione sportiva del Granada. Questo è. Altra figura potrebbe essere Stefanelli, che attualmente è il direttore sportivo del Pisa. Per cui vediamo un po' quale sarà l'evoluzione della società Juventus, ma pare che l'area tecnica ormai sia abbastanza identificabile nel piano di giuntoli e nelle figure che giuntoli ha avuto in passato come riferimento, come collaboratori eccetera. Quindi diventerà quella area tecnica la Juventus avrà quel tipo di area tecnica la composta da quegli uomini che, ripeto, hanno quel feeling speciale con Cristiano Giuntoli. Per cui è tutto in divenire e vediamo. Inevitabilmente ci sono dei pensieri da fare. Ma adesso queste situazioni qua cambiano qualcosa con quello che potrebbe essere un eventuale esonero di allegria anzitempo da capire. D'altro canto vi dico, a me pare che sia abbastanza tracciata la linea che vede Tiago Motta alla Juventus, con l'appoggio totale e il sostegno di Cristiano Giuntoli e il suo gruppo di lavoro. Cioè questa è la mia opinione e la mia idea. Nasce quindi un nuovo corso sportivo, nasce quindi una nuova idea di Juve e questo mi fa ben sperare. Io mi auguro ragazzi una cosa, che con Tiago Motta e la Juve di Giuntoli ci sia un entusiasmo travolgente, che travolga anche quelli un po' più critici perché sono rimasti ad Allegri, perché sono allegriani. Deve travolgere tutti. Dobbiamo essere in un'estasi totale di Juventus che in campo ci fa divertire, che in campo vince, che in campo ci fa sentire orgogliosi. È quella credo che sia l'ambizione che tutti dobbiamo avere. Non dobbiamo avere l'ambizione di dire avevo ragione io, avevo ragione tu e di farci la guerra di religione sui nomi, eccetera. Io ve l'ho detto anche già in passato, se Allegri avesse vinto questo scudetto, pensate che io avrei evitato di festeggiarlo, avrei evitato l'andare in piazza perché Allegri a me non piaceva, eccetera, in questi anni. No, sarei andato comunque a festeggiare quel trofeo. Perché è giusto così. E non vi nasconde il fatto che se la Juventus dovesse arrivare in finale di Coppa Italia, un pensierino per andare a Roma ce lo faccio e come. Per cui questo deve essere lo spirito. Però mi pare, ripeto, che la strada sia già tracciata, che sia finita l'era dell'Allegri Bis, che stia iniziando una nuova era a partire però dalla società, che cambia alcuni interpreti, che cambia alcune figure, che porta una ventata di novità. è sicuramente un nuovo modo di lavorare all'interno di un'organizzazione che già funziona. E questa è un'altra cosa interessante, importante. Una struttura differente. Queste figure qua avranno a che fare con una struttura societaria differente, che secondo me mette in condizioni di poter lavorare non bene, di più, di più e con molte più risorse rispetto a quelle che questi dirigenti avevano in passato. Questo non significa necessariamente che si potrebbe far sempre bene comunque. Non è una regola. Io vado da un'altra parte dove ci sono più risorse e farò sempre meglio. Perché le risorse vanno sapute gestire spesso. Avere tante risorse porta delle decisioni complicate da prendere. Mentre invece l'avere poche risorse ristringe il campo delle scelte. Questo è anche importante. Però credo che invece, io parlo di risorse a livello di struttura. Ok? Campi, la possibilità di investire sullo staff, di intervenire sulla ricerca dello staff. E questo fa tutta la differenza nel mondo per poter lavorare bene. Quindi, curioso di vedere l'impatto che avranno queste figure. E non ci resta che aspettare che si chiuda questo disegno societario con le ufficialità, con gli arrivi e con gli addi soprattutto. Ecco. Io sono molto curioso di leggervi adesso dopo questa notizia. Sono molto curioso di sapere come la pensate. Sono molto, ripeto, curioso di vedere anche l'esito della partita di stasera. Se sarà positivo, molto bene. Se sarà negativo, quali saranno le conseguenze. Insomma, ragazzi, tanta carne al fuoco. Voi, per non perdervi nulla, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella delle notifiche. Così non vi perdete i prossimi video. Vi mando un forte abbraccio e sempre, ragazzi, sempre, fino alla fine... Forza Juve! Forza Juve!